carissimi orgo fans salve intanto un saluto a tutti voi che seguita sempre ciò che io vi racconto seguita sempre tutto quello che mi viene per la testa io ve lo racconto e voi siete lì davanti a me io vi ringrazio ringrazio anche anita per tutti i saluti che ci mandate per gli abbracci per gli stracci e per tutte le cose siamo veramente contenti di voi e cosa dire oggi è una giornata particolare perché è la festa del papà la mattina quando ti alzi cosa fai prendi il telefono e guardi lo fate tutti stamattina prendo il telefono e guardo e ci sono gli auguri di barbara di davide i maritrini e la festa del papà la festa del papà e quindi te le aspetti queste cose perché l'amore esiste in un modo o nell'altro ormai i figli sono anche impegnati perché sono grandi ognuno tenta di fare quello che gli viene in mente sia nel lavoro che nelle altre cose sono ormai autosufficienti però i figli sono sempre quella quella parte del tuo corpo quel remo destro quel remo sinistro che accompagnano la vita la vita di ogni papà e quindi il piacere più grande stamattina era questo di vedere che miei figli mi hanno mandato questo saluto questo augurio importante cosa dire quindi stamattina per me questa era un'allegria è stata un'allegria grandissima è intanto voglio ringraziarli anche direttamente qui a davide a barbara e a maritrini grazie gli ho già risposto anche col cellulare intanto un augurio a tutti i papà questi papà che si danno da fare per aiutare la famiglia per stare a fianco ai figli ai bambini alle bambine e alle mamme cosa dire del papà posso raccontarvi di quando ero bambino io che a quei tempi la festa del papà non esisteva non c'era la festa del papà è arrivata molto dopo non so in quale anno però è arrivata allora si il papà non lo chiamavamo babbo eh sì io mi specchio ogni tanto scusate il papà lo chiamavamo babbo e a quei tempi non c'era neanche un grande dialogo tra padre e figlio io l'ho vissuto e quindi non mi vergogno di dirvelo perché eh ben venga la la giornata di oggi che possiamo dire che abbiamo un dialogo col papà infatti io con i miei figli parlo con tutti ci diciamo le cose non ce le diciamo molte volte ci dimentichiamo però siamo sempre lì che quando ci incontriamo sono abbracci sono baci e quando ci si poteva baciare naturalmente e quindi a quei tempi la festa del papà non c'era cosa dire dei babbi di una volta perché si chiamava babbo babbo io ho conosciuto una persona che alla figlia gli ha detto non voglio che mi chiami papà mi devi chiamare babbo questo succedeva vent'anni fa quindi i tempi stavano cambiando però lui siccome era sardo coccio diceva no mi devi chiamare babbo babbo e questa ragazza lo chiamava babbo quindi grazie al ai tempi di oggi questa festa che si può finalmente festeggiare vediamo che un giorno facciano la festa del figlio questa oggi la festa si fanno per tutte le cose come votate io mi ricordo che c'era uno ai tempi che furono visto parlando di 40 anni fa che fece il giorno dedicato a una motocicletta la vendeva lui quindi voleva fare questo scatto di modernità inventarsi il giorno di quel tipo di motocicletta allora cari papà io sono contento che oggi stiamo parlando di noi di questi papà che i figli oggi bisogna stargli molto molto vicini molto vicini soprattutto quando sono in tenera età 17 18 anni bisogna stare ancora molto più vicini e anche prima perché figli hanno sempre bisogno di una mano di una carezza di un abbraccio e di una parola che dia conforto quindi cosa dirvi io mi immagino anche per quelli che non hanno un papà o che l'hanno avuto che ora che ora non ce l'hanno più quindi questa giornata non è tanto per festeggiare ma anche per ricordare i papà sono quelle persone che ci hanno dato sempre calore perlomeno a voi a me a quei tempi calore ce n'era pochissimo però nella maniera in cui potevano darlo te lo davano magari non ti facevano una carezza ma ti compravano un vestito un abito allora si usava a comprare l'abito oggi compri un jeans regali una maglietta e sei a posto allora ti compravano l'abito mi ricordo la prima volta che mio padre mi aveva comprato un abito mi aveva portato in questo negozio c'era tutta la famiglia c'era mio padre mia madre i miei fratelli mia sorella e eravamo lì e mi ha detto scegli e ho scelto un abito particolare ero particolare anch'io un pantalone alla zuava giacca e pantalone alla zuava mi piaceva me lo sono messo ero bello mi piaceva oggi rivedo quella fotografia sembra una caramella e poi un'altra cosa che mi aveva regalato era comprati un cappotto prenditi un cappotto scegli avevo scelto un mongomeri quello coi bottoni trasversali era bellissimo si usava in quel periodo il regalo fatto dal mio babbo non mi accarezzava però mi regalava delle cose quindi era sempre un modo per dimostrare che sempre un po di amore c'era vi sto parlando dell'amore di una volta oggi papà in un attimo arrivano con un cellulare arrivano con un paio di cuffie oggi è molto più facile allora quelle cose non c'erano per cui il cappotto era equiparato a un cellulare sì 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 era molto più semplice e niente poi con mio padre lavorando in campagna non c'era il dialogo perché se parli non lavori però quei tempi ormai sono lontani e quindi godetevi oggi giovani miei godetevi questa mano di vostro padre per chi ce l'ha godetevela e date l'importanza alle parole che il vostro papà vi dice è molto importante una cosa molto curiosa un urgo fans non so di che età a esso sia ha scritto una filastrocca del papà e mi prega gentilmente di recettarla filastrocca del papà ovunque andrò lui ci sarà sia vicino sia lontano lui mi tenderà la mano ogni broncio del mio viso lo trasformerà in sorriso riempirà col suo coraggio ogni passo del mio viaggio saprà togliermi le nuvole mi racconterà le favole metterà sulla mia bocca la più bella filastrocca scacerà tutti i miei mali mi disegnerà le ali tutto ciò che non so fare lui mi insegnerà a volare grazie urgo fans e questa è dedicata a tutti quelli che vogliono dedicarla al papà un abbraccio forte e grazie per questa filastrocca ciao